È il 115esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro. La chiesa ricorda San Fedele. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fedele. Il nome ha origine latina ed è di significato ovvio. Accadde oggi. Il 24 aprile del 1184 a.C., secondo la tradizione, gli antichi greci entrano a Troia servendosi di un finto cavallo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 24 aprile ricordiamo lo stilista francese Jean-Paul Gaultier e la cantante Barbara Streisand. La citazione del giorno. Gli italiani guadagnano netto, ma vivono l'ordo. Giuseppe Saragat. Dice il saggio. Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Il bel paese. Il santuario di Loreto è meta di continui pellegrinaggi ed è considerato la Lourdes italiana. Il santuario sorge nel luogo in cui, secondo la leggenda, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, gli angeli trasportarono prodigiosamente in volo la casa della Vergine Maria dalla Palestina. Documenti e scavi archeologici vanno oggi confermando l'ipotesi che le pareti della Santa Casa siano state trasportate a Loreto su una nave per iniziativa della nobile famiglia Angeli che regnava sull'Epiro. Loreto oggi richiama migliaia di turisti, non solo cattolici, perché questo grandioso santuario rappresenta uno scrigno che contiene un inestimabile tesoro, che raccoglie capolavori di architettura, scultura e pittura con nomi celebri della storia dell'arte. Grazie a tutti.